Il Veneto è pronto a premere l'acceleratore sulla campagna vaccinale e il governatore Luca Zai annuncia l'apertura di una nuova corte rappresentata da un importante insieme di cittadini. Vi informo che si aprono degli slot per una categoria vaccinale che è la categoria 4, che sono tutti coloro che hanno un'esenzione ticket per una patologia, non che esenzione ticket per reddito ma per patologia. La corte in questione è formata da 444 mila persone, delle quali 194 mila ancora da raggiungere con le vaccinazioni. Ci sarà una prima finestra di 94 mila dosi per tutti gli interessati dai 16 anni in su. Ma non è questo l'unico tema di giornata, si parla anche della possibilità di fare i vaccini alle persone che verranno in vacanza in Veneto. L'approccio rispetto al vaccino in vacanza è un approccio che varia a seconda del contesto turistico dove ti trovi. Considerate che quando parla il Veneto parla la prima regione turistica d'Italia, 72 milioni di presenze. Da noi arrivano da tutti i paesi, il 67% di questi 72 milioni di presenze sono stranieri. Ecco quindi l'invito di Zai alla politica nazionale. Io penso che a livello nazionale si debba chiarire invece un vero concetto. Se riconosciamo la reciprocità della vaccinazione, tutti condividono l'idea che se una persona vuole farsi la seconda dose di vacanza se la può fare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.